Resterai sempre nei nostri cuori. Ciao Mile. Uno striscione affisso all'entrata della chiesa dei Santi Vito e Modesto di una Mon Baroccio stretta nel dolore della famiglia Lentini. Bandiera mezzasta in un paese che in questo 16 novembre si è chiuso nel silenzio di una giornata di lutto cittadino e si è ritrovato nella chiesa del Borgo per l'ultimo saluto a Milena volata in cielo ad appena 14 anni. Milena è morta sabato all'ospedale di Ancona dove era ricoverata da martedì in gravissime condizioni. Quattro giorni fa l'auto sulla quale si trovava a bordo si è schiantata frontalmente e fatalmente con un'altra macchina a Santa Veneranda all'incrocio fra strada Ponte Valle e strada Valle Tresole. Con lei a bordo la coetanea Denise e il 19enne Matteo alla guida feriti e dimessi dopo le cure dell'ospedale di Pesaro. Milena invece non ce l'ha fatta e il vescovo Sandro Salvucci che ha ufficiato la funzione assieme a padre Renato ha cercato nelle sue parole di porgere una carezza al dolore inconsolabile di papà Domenico del fratello di 17 anni della sorella di 12 di nonni e zii con la zia Stefania diventata una seconda madre dopo che mamma Marianna era morta di leucemia nel 2019. Lacrime e amore quelle dei tanti amici dai compagni di scuola ai ragazzi della Proloco Giovani alla quale Milena si dedicava. Una comunità ferita e stretta nel dolore che ha accompagnato l'uscita del feretro con palloncini bianchi diretti al cielo che da oggi come ricordato nei messaggi a una stella in più.